buongiorno a tutti benvenuti su cucina italiana di casa la ricetta che vi propongo oggi sono i ravioli di melanzane melanzane che io ho già preparato trifolate con un pochino di aglio e prezzemolo naturalmente grande protagonista la pasta all'uovo che è appena fatta e bella tenera poi un po di formaggio pecorino un altro uovo e della ricotta mentre la pasta per i ravioli si riposa noi prepariamo il ripieno dicevamo melanzane già trifolate e possibilmente fredde così non impazzite un uovo che servirà anche a dare consistenza una buona dose di ricotta per una melanzana due tre cucchiai di ricotta dipende da quanto vi piace il formaggio e il pecorino che naturalmente nel frattempo ho grattugiato fresco le dosi in questo caso vanno a gusto essenzialmente però più o meno sono queste a questo punto riduciamo tutto in crema col mio amico frullatore a immersione quando il ripieno ha raggiunto una consistenza che ci soddisfa non ci resta che regolare di sale un po magari ne serve anche se il pecorino è assaporito e un giro di pepe se piace e poi andiamo a stendere la pasta per i nostri ravioli che la nostra pallina di pasta cominciamo ad infarinarla e a trasformarla in strisce sottilissime quale che sia la forma che desiderate dare ai ravioli infatti la cosa importante è che la pasta sia molto molto sottile le strisce devono essere ovviamente molto regolari altrimenti avremo poi grossi problemi quando dobbiamo riempire i ravioli e tagliarli nella forma che per i ravioli di melanzane la forma che io preferisco è quella delle mezze lune perché in questo modo vengono belli grossi e si sente bene il sapore del ripieno taglio quindi la pasta utilizzando un coppapasta in modo da avere i cerchietti per fare le mezze lune naturalmente la pasta che avanza non si butta potete scegliere se ritirarla di nuovo oppure più semplicemente stracciarla in pezzettini più piccoli ed utilizzarla per fare un'ottima pasta ai fagioli o altre minestre che richiedano della pasta andiamo a preparare i nostri ravioli oggi è una giornata molto secca per cui spennello leggermente con dell'acqua o se volete essere ancora più sicuri con dell'uovo i dischetti di pasta che ho preparato in questo modo non si asciugano troppo e si chiuderanno con più facilità fatene pochi alla volta in modo da poterli riempire e chiudere soprattutto se dovete preparare delle grosse quantità mettiamo il ripieno al centro di ogni dischetto se siete molto organizzati potete usare naturalmente anche la tasca per riempire i ravioli se ne dovete far tanti val la pena altrimenti un cucchiaino si presta perfettamente ok i dischetti vanno poi chiusi a mezzaluna premendo bene sui bordi in modo che quando cuoceranno il ripieno non esca in trasparenza dovreste vedere un bordino di circa 2 3 mm intorno al raviolo più la pasta è sottile più naturalmente questa operazione è delicata se non siete espertissimi potete magari lasciarla un pelino più spessa la prima volta man mano che preparate i ravioli sistemateli poi su un piatto meglio se di cartone perché si incolla meno leggermente spolverato di farina in modo che si possano asciugare nello stesso piatto se volete li potete anche congelare si conserveranno perfettamente altrimenti sono pronti da cuocere con il ripieno che si ottiene con una melanzana bella grossa e tre uova di pasta quindi tre etti di farina otterrete ravioli per sei persone le ricette le trovate come sempre su cucina italiana di casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti